La parola di Dio ha l'esperienza dell'essere custoditi, una vita custodita, in fondo il segno di un Vescovo, come è stato il Vescovo donato, annunciatore, predicatore, operatore di carità e con il coraggio di dare la vita per il Vangelo, nella figura di un Vescovo, come è stato il San Donato, Noi ritroviamo la figura di chi custodisce la comunità Alla celebrazione animata dal coro della Pieve erano presenti numerosi fedeli, oltre alle rappresentanze dei quartieri della Giostra del Saracino. Al termine della cerimonia una delegazione del settore giovanile dell'Arezzo Calcio ha omaggiato la reliquia del Vescovo Martire. Questo momento è stato voluto da Monsignor Alvaro Bardelli, parroco della Pieve.